Io ho l'obbligo di salvare la città e questa città era a grave rischio e noi stiamo rimettendo a posto i conti. Quando noi ci siamo guardati la cassa, insomma a metà giugno, primi di luglio che abbiamo cominciato, avevamo un milione in cassa e dovevamo pagare gli stipendi. Ecco, su 140 milioni di euro di affidamento delle banche. Oggi con l'affidamento a 140 milioni usiamo, mentre prima il 2 di agosto usavamo 139 milioni, perché eravamo proprio al lumicino per saltare, adesso su 140 milioni usiamo 20, perché abbiamo messo in sicurezza i conti del comune. Chiaro, è una partita durissima, però credo sia all'interesse di tutti rilanciare la città. Se le proteste, più che proteste è così, legate a, se uno vuole protestare col sindaco, per carità, io sono qua e mi assumo tutte le responsabilità che devo, ritengo sia opportuno fare un'operazione verità e dire che alla città di Venezia sono stati tolti 1 miliardo 250 milioni negli ultimi 10 anni. Questa è la verità vera e che stiamo arrancando per farci.